Un luogo tecnologicamente avanzato come MAG aveva necessità di uno strumento altrettanto innovativo per dare la possibilità agli utenti di fruire della tecnologia in maniera facile ed immediata. Con un'unica app gli utenti di MAG possono sottoscrivere una membership e interagire con l'edificio e la community. Si tratta di un'app mobile e desktop che garantisce l'integrazione più compiuta con la tecnologia di MAG, con il wifi, con il sistema di controllo accessi, con le stampanti presenti all'interno dell'edificio e con il sistema di pagamento. Tramite l'app l'utente può in maniera semplice e veloce acquistare i servizi e i prodotti offerti dal MAG così come può gestire i pagamenti, il tutto in assoluta sicurezza con autenticazione a due fattori e one time password come avviene nelle più classiche transazioni bancarie. Una volta scaricata l'app ci si può posizionare all'ingresso di MAG. Qui il dispositivo riconosce e si collega alla rete wifi. A questo punto sarà possibile scannerizzare il codice QR code per far sì che il tornello si apra. Una volta all'interno è possibile accedere alla postazione prenotata che può essere una postazione temporanea, un desk fisso oppure un ufficio se l'esigente è quella di lavorare in team. Per organizzare riunioni è possibile accedere al servizio prenotazioni e visualizzare gli spazi e le risorse disponibili. È inoltre possibile settare dei filtri per cercare la sala riunione ideale con le caratteristiche e le dimensioni richieste. È possibile indicare la presenza di ospiti comprese persone esterne al MAG ed inviare loro un invito via mail con tutti i dettagli. Giunto l'orario stabilito per la riunione basterà presentarsi davanti alla sala e scannerizzare il codice QR code per permettere alla porta di aprirsi. Anche l'uso delle stampanti in sharing è facile, veloce e sicuro. Nella sua totalità questo è un progetto ad alta complessità e soprattutto multidisciplinare perché ha richiesto l'intervento attivo di numerose competenze e questo è coerente con l'esigenza di creare uno spazio di collaborazione e di contaminazione di idee. Grazie.